L'EMA darà il via al nuovo vaccino, quindi se eravate preoccupati dal fatto che il vaccino è rimasto quello vecchio che non era proprio utilissimo, adesso finalmente l'EMA darà il via libera alla distribuzione dell'ultimo vaccino partorito da Pfizer e a breve arriverà anche Moderna, quindi potete superare questa fase di ansia, di tristezza, sono più di tre ore che non mi faccio un vaccino, non è che si sarà abbassata negli ultimi 18 minuti la mia copertura immunitaria e quindi sono adesso soggetto ad ammalarmi, ma Pfizer vi pensa e ha messo in circolazione un vaccino nuovo per rendere la vostra vita più semplice e più sicura. Ecco, non sentite quei brutti negazionisti, quelli che odiano la scienza, quelli che ce l'hanno con Bassetti, con Pregliasco, quelli che mettono dubbi sulla sicurezza dei vaccini, che parlano persino degli effetti avversi, quelli sono nemici della scienza, nemici del progresso, sono di fatto persone che vivono in un mondo preistorico assolutamente superstizioso. Noi dobbiamo invece adorare all'unisono queste nuove divinità, dobbiamo credere nei profeti Pregliasco, Crisanti, Bassetti, Alligalli, figure che ci sono state inviate direttamente da questo nuovo dio personificato che è la scienza per annunciarci un'era fatta di salvezza e di immunizzazione di massa. Ce lo dice Michele Bocci, non è che è l'ultimo arrivato. E infatti ci dice Bocci che il via liberi in Europa per il primo tra i nuovi vaccini anti-Covid, quello di Pfizer, è atteso per oggi. Insomma c'è una grandissima attesa, si segnalano persone che scrutano i cieli per cercare di capire, magari anche con il posizionamento dei pianeti, quando arriverà precisamente. Poi sapete quando deve arrivare qualcosa di importante, ci sono sempre quei mitomani che dicono l'abbiamo visto lì, Pfizer è partito, è qui e lì. Invece non è vero, dovete aspettare. Perché l'unica voce ufficiale è quella di Repubblica e gli altri sono dei millantatori. L'Agenzia del Farmaco aprirà così ufficialmente la procedura che porterà la campagna vaccinale di autunno in Italia. La consegna delle prime dosi è attesa a inizio ottobre. Ecco, so che questa è una notizia difficile da digerire perché ci sarà gente adesso che comincia ad andare in fibrillazione, dicendo, voglio subito il vaccino, come faccio a resistere fino a ottobre? Vedremo scene di panico, persone che urlano. Dovete darvi una calmata. Lo avrete anche voi, arriverà la voce, però dovete avere pazienza. Quel mese di settembre state lì ad aspettarlo, magari come una Penelope in casa, chiusi, pregando, guardando dalla finestra, sognandolo, però arriverà. Abbiate un po' di pazienza. È attesa a inizio ottobre. Il piano è di fare contemporaneamente l'anti-coronavirus e anche l'anti-influenzale. Se volete, potete fare così, anche l'antitetanica, perché è un bel trittico, non fa mai male. Dal resto, le categorie coinvolte, come da recente circolare, sono le stesse, over 60 e persone fragili. Ecco, le persone fragili, c'è una spiegazione più precisa per individuare meglio le persone fragili. Le persone fragili sono quelle che credono a Repubblica. C'è una categoria precisa che ha proprio diritto al vaccino prima di tutti gli altri, prioritariamente. Se una persona si presenta al lab con Repubblica, si presenta così, il medico, appena lo vede, o anche l'infermiere che è tenuto a segnalare la presenza di una persona, brucia le mani, con la Repubblica in mano, quello immediatamente acquista priorità sugli altri, conquista la priorità sugli altri. Quindi viene portato immediatamente nel primo lab vaccinale e punturato senza pietà, proprio perché è riconosciuto come fragile e anche un po' manipolabile. La previsione però che fanno alcuni esperti, anche visto l'approccio blando del Ministero della Salute, dove non si vuole sentire parlare di Covid. Purtroppo noi abbiamo al Ministero, abbiamo uno che preferisce parlare di calcio, ha cominciato il campionato, oppure parla di donne, parla di cose un pochino più profane. Quando viene qualcuno e dice guarda, è arrivato il nuovo vaccino anti-Covid, questo qui, il nuovo ministro, dice no scusa, ho un telefonato importante, ci vediamo dopo. Quindi trova sempre delle scuse per non affrontare di petto l'argomento. E quindi proprio a causa di questo, del fatto che se ne parla poco, se ne parla nei corridoi, se ne parla male poi, le coperture sfortunatamente saranno bassissime e noi non ci vogliamo credere a questa previsione. Secondo noi invece le coperture saranno altissime, saranno oltre il 100, anche perché è tornato Figliuolo in Emilia-Romagna, sta facendo benissimo come commissario per l'emergenza, magari lo possiamo spostare un attimo anche sulla vicenda Covid, giusto per fare tornare l'entusiasmo nelle truppe che sono adesso un pochino scoraggiate, però non è vero che saranno. Perché non dovete credere a Pregliasco? Perché non dovete credere a quell'altro? Fatevele queste cose, serve, serve. L'anno scorso sono stati circa 6 milioni coloro che hanno fatto la seconda dose booster, cioè la quarta, a fronte di un numero doppio, appunto 12 milioni, e questa pure la matematica, di fragili che hanno chiesto e ricevuto l'anti-influenzale. Quest'anno potrebbe andare ancora peggio, cioè si è insinuato purtroppo, e questo lo diciamo con un pizzico di delusione, nelle vene della nostra società, il virus del dubbio. C'è chi dice ma poi servirà davvero fare 115 dosi, ma perché mi devo fare una dose ogni sei mesi? Ma è sbagliato, voi non dovete pensare, voi dovete obbedire. I nuovi anti-Covid, a breve arriverà anche quello di Moderna, se non volete, quello lì di Donna Moderna, sarà chi compra Donna Moderna, si potrà iniettare da solo una dose di Covid. Poi arriverà anche quello lì, Novella 2000 ad esempio, arriverà notare per tutti i gusti, perché il potere vi pensa, vi cocco, non è che vi dice c'è solo questo, fate Pfizer e basta, no, vi offre una serie di possibilità, c'è Pfizer, c'è Moderna, c'è tutto, però voi no, perché poi siete miscredenti e quindi non lo volete fare. Sono stati progettati, lo spiega Marco Cavaleri, per contrastare la sottovariante XBB1.5, ecco, la vostra soddisfazione è il suo miglior premio, ma funzionano anche contro quelle più nuove, più nuove, cioè contro BA.2.86, questo è il nome, come dire, è il nome quello lì ufficiale, però per gli amici si chiama Pirola, perché uno dice come ti preseghi, chi è? BA.BU.BA.2.86, insomma uno fatica a fare amicizie con un nome così, invece si presenta, salute, salve, Pirola, e già Pirola piace di più. Quindi dobbiamo prepararci, oggi, ecco, parla, ecco, è tornato a parlare il grande igienista non dentale di Milano, Fabrizio Pregliasco, e ci ricorda, ce lo ricorda, lui sì che è la memoria storica di questo paese, che le prescrizioni anti contagio ci sono. È stato giusto, dice, togliere l'isolamento, però insomma è cruciale il rilancio della vaccinazione. Però sono mesi che in Italia non si vaccina nessuno. Del resto, lo dicono sconsolati, guardate, questo qui secondo me è molto indicativo, questo passaggio spiega tante cose. Dice, del resto la malattia è quasi scomparsa, no? Dice, ma perché non vi vaccinate anche se non c'è la malattia, no? Perché non volete aiutare questa gente che è costretta tutte le volte a ingrandire dei fenomeni per, veri o presunti, per costringervi a vaccinarvi. Il loro sogno sarebbe vaccinare qualcuno con un vaccino per una malattia che non c'è. Così non si devono sforzare manca a creare la malattia, che è fastidioso ogni volta, vai al laboratorio, fai finta che è uscito per caso, dici poi che è il pangolino, cioè per loro è una fatica, no? Invece se voi, che siete miscredenti, vi abituate a vaccinarvi anche per una cosa che non esiste, o agevolate, Elkan, agevolate, Bill Gates, no? Vaccinatevi contro la malattia Gnaps, ad esempio, che non c'è, però vi danno il vaccino e voi vi sentite psicologicamente, perché io ho fatto una cosa buona comunque, oggi non c'è, ma nessuno può escludere che un domani uscirà la malattia Gnaps e io sono già vaccinato. Perché non entrate in quest'ottica che è scientifica? Voi no, voi invece no, non lo volete fare. Parla anche Andrea Cossarizza. Ora, chi è che non ascolta Cossarizza dell'Università di Modena? Ecco, mi pare che questo sia esperto in aceto balsamico. Ci sono persone, dice, di oltre 100 anni, dice, vedete che lo sa Cossarizza, che rispondono ancora, hanno i linfociti che rispondono ancora al vaiolo. Il Covid lo abbiamo avuto tutti, dice, forse anche più volte. Ecco, insomma, è un grande esperto, un pensiero davvero profondo. Comunque, chiudiamo la lettura di questo primo articolo unendoci anche noi al coro di questi scienziati che vi chiedono un ultimo sforzo. Fatevi, questa sarà la settima, l'ottava, la quindicesima dose, se no tutti questi soldi a Pfizer chi glieli dà? Dove li pigliano? Quindi cercate di essere, di dare una mano, insomma, vaccinatevi comunque, anche se non serve, anche se la malattia non esiste, come dice Michele, bocci perché l'importante è che esista il vaccino. Poi, se la malattia c'è o no, è un dettaglio assolutamente trascurabile e sentite Pregliasco e Cossarizza, per cortesia. Soprattutto Cossarizza, Cossarizza, insomma, meno usurato di Pregliasco, Cossarizza, poi guardate che bel nome, no? Da fiducia, chi lo dice Cossarizza, cioè è un nome imponente, lo certifica Cossarizza, cioè non è facile mettere in discussione quello che dice uno con un nome così importante.